Un saluto dal Tg della Mobilità. Nella zona del litorale proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sui cavalcavia di Viale della Vittoria e via Gaetano Chierchia. Da oggi a domenica per lasciare spazio agli interventi lungo la ferrovia Romalido. A partire dalle 21.30 la circolazione dei treni sarà interrotta tra Acilia e Colombo. La circolazione dei treni resterà invece sempre regolare tra Porta San Paolo e Acilia. In alternativa nella tratta interrotta potranno essere utilizzate le linee bus 04, 06 e 070. La linea 04 viaggia tra Acilia, Ostia Antica, Lido Nord e Lido Centro. La 06 tra Lido Centro, Stella Polare, Castelfusano e Piazzale Cristoforo Colombo. Mentre la 070 tra la stazione della Metro B e Orfermi e Colombo. I dettagli su muoversiaroma.it